Ciao ragazzi e benvenuti nel primo vlog Amaron e Tony Tubbo Oggi ragazzi siamo qui Con un ospite speciale Martina Devi salutare Ciao Mamma mia siete che non fai la youtuber di me siete Guarda adesso gli vado da Andrea Oggi ragazzi siamo con un ospite speciale Ciao Bella raga Visto come si fa Marta Ecco Allora stavamo pensando a un'idea Di fare un video su fortnite Ok io e Martina Ovvero lo strip fortnite Ok dove lo faccio Strip fortnite ogni kill Un indumento con la mia ragazza Tutti quanti aprono il video pensando che si spoglia Lei invece mi spoglio io Bella Tony Stiamo andando in palestra In questo video tu non ci sei Che bello ma voi siete nel mio Però se lo scorso l'idea Non era capire il signore Non ricorda ci potremmo venire in palestra Sì voi credeteci Bella Loro vanno in palestra Martina non come te Non siamo come il tuo fidanzato Martina Noi andiamo in palestra Dai andiamo in palestra Dai andiamo in palestra Dai andiamo in palestra Vai a cagare Dai andiamo in palestra No io vado via Ha detto mamma che sono bello così Non ho bisogno della palestra È vero ragazzi Ditemelo anche voi Ragazzi siccome Om e Andrea Sono andati in palestra Anche noi siamo andati alla nostra palestra Signore e signori Loro di Napoli Loro di Napoli Loro di Napoli Loro di Napoli Beh ragazzi abbiamo finito a mangiare Personale simpaticissimo Adesso ve lo facciamo conoscere Allo staff che ha preso Mi ha fatto una sorpresa Ora vi faccio vedere a tutti Abbiamo un dessert della casa Guarda tutti i nostri clienti Solo e esclusivamente Trattori agamese Napoli Napoli, Brescia, Varese Monza, Milano Torino Trieste Treviso Barosolo a Napoli Le cose più belle Prego Una caffetta con te Capolavoro Ragazzi Lo sforzo si deve fare Che fai ragazzi? Lo sforzo si deve fare Dai Lo dobbiamo fare Lo faccio per voi ragazzi L'assaggio per voi Che spettacolo Ma non lo provo È buonissimo Bene ragazzi Siamo usciti dalla Caprese Tutto buonissimo Tutto buonissimo Personale Simpaticissimo Che tra l'altro ho scoperto Che mi seguivano pure su FIFA Quindi tanta roba E ovviamente Mi hanno fatto la classica domanda Perché è scartata a Ronaldo Totti E ho detto Pureca Cioè ormai mi persegui da questa cosa E niente Adesso ci accingiamo Ad andare a casa Dall'altro lato di Napoli E niente Quindi ragazzi Noi ci vediamo A un prossimo video Mi raccomando 5000 like Prossimo daily vlog di Tony Tubo Bella ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti